Si chiama PAX ed è il nuovo sistema di refertazione delle immagini radiologiche presentato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e di garantire una gestione efficiente e rapida delle immagini. L'ospedale Sant'Andrea di Vercelli si è recentemente dotato di una nuova organizzazione per la diagnostica per immagini. In modo particolare con il rinnovo delle attrezzature è possibile oggi che i radiologi refertino le diverse immagini fatte al letto del paziente negli ambulatori e soprattutto che gli esiti di queste refertazioni vengano conservate non più in via cartacea. Il sistema di refertazione porterà numerosi vantaggi. In primo luogo i referti saranno visibili in tempo reale nelle postazioni di tutti i reparti del territorio e le immagini digitali consentiranno una qualità migliore. Inoltre i pazienti potranno usufruire di documenti non deteriorabili e accedere agli archivi storici con facilità in caso di necessità. I referti infatti non saranno più consegnati sull'Astra ma su supporto digitale, cioè su un comune CD. In futuro le immagini potranno essere visualizzate in rete anche dai medici di base e dai pediatri grazie a un progetto sperimentale che prenderà il via nel 2010. Si tratta di una rivoluzione da una parte per noi radiologi che non refertiamo più su pellicole, le cosiddette lastre, ma sui monitor che vedete alle mie spalle e rappresenta una rivoluzione per l'interno dell'ospedale dove non circolano più le pellicole ma gli esami sono disponibili in tempo reale nei reparti e per i medici di medicina generale e i pazienti ambulatoriali che non hanno più le pellicole ma dei supporti digitali che possono essere gestiti e trattati anche dai medici di medicina generale stessa.